Prosegue a Polla il lavoro dell'amministrazione comunale per realizzare un albo comunale per babysitter allo scopo di fornire alle famiglie un primo importante aiuto nella ricerca di personale qualificato a cui lasciare la cura dei propri figli. Per l'istituzione dell'albo l'amministrazione guidata dal sindaco Massimo Loviso organizza un percorso di formazione gratuito rivolto a soggetti che intendano qualificare la propria competenza in materia di cura del bambino. Sul sito del comune è stata quindi pubblicata la modulistica da compilare per partecipare al corso di formazione. Cerchiamo di essere attenti e vicini alle esigenze delle famiglie fanno sapere dal comune di Polla che ha deciso su iniziativa dell'assessore Federica Mignoli di dar vita a questa iniziativa per valorizzare il ruolo degli operatori impegnati a supporto delle famiglie che soprattutto in questo delicato momento reso difficile dalla pandemia si trovano nell'esigenza di reperire persone affidabili e preparate a cui lasciare i propri figli. L'albo conterrà un elenco di professionalità organizzato in ordine alfabetico per servizi strutturati e continuativi ma anche per esigenze improvvise ed occasionali. Questa iniziativa consiste da parte del comune nell'istituire un albo comunale babysitter e collegato all'albo comunale organizzare un corso per formare chi vuole partecipare all'iniziativa perché in questo momento di particolare criticità in cui tante famiglie non hanno persone vicino per poter assistere i propri figli e quindi lavorano, li devono lasciare e tanti altri disagi in merito a volte non si sa a chi fa riferimento alla figura professionale, dove cercare e quindi noi con questo mezzo vogliamo dare proprio quel punto di riferimento per le famiglie per poter scegliere al meglio, ovviamente la scelta rimane loro, queste persone che decidono di aderire all'albo dovranno frequentare questo corso, alla fine del corso ci sarà comunque un attestato di partecipazione. Al momento chi vuole aderire compile il modulo e lo protocolla all'ufficio anagrafe del comune, poi successivamente verranno spiegate un po' l'inizio e tutte le modalità del corso che ovviamente si farà in piattaforma.